Musica Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio. Un uomo lo attraversa e un altro osserva. È sufficiente a dare inizio a un'azione teatrale. E voi dove lo fareste? Uno spettacolo teatrale. Sarebbe un sogno assistere ad uno spettacolo in una cornice classica all'aperto, magari seduta sulla gradinata di un teatro romano. Immagina il tramonto, ci sarebbe un'atmosfera magica. Come location di un'opera teatrale di prosa di Lorenzo da Ponte, perché ne ha scritte tante a Gorizia, ne vedrei bene una proprio realizzata in mezzo all'anfiteatro fra i vigneti del Collio. Mi piacerebbe vedere uno spettacolo teatrale in un cortile di un condominio, cioè un cortile che raggruppa più condomini per vedere e condividere un'esperienza insieme agli altri. Io sarei felice che uno spettacolo venisse messo in scena nei giardini degli ospedali, soprattutto con la situazione attuale. Mi piacerebbe vedere una rappresentazione teatrale in un vecchio paese abbandonato. Ciao! Mi piacciono molto i salici piangenti, quindi mi piacerebbe vedere uno spettacolo teatrale in un bel giardino piantumato di salici piangenti, verso, non so, inizio estate? Una serata di inizio estate? Posti? Ce n'è tanti e trovo sia molto bello questa cosa di essere inseriti in una città che io trovo bellissima, che è Dorizia, e che si presta, si presta davvero ad avere diversi angoli, anche che magari non ci si può immaginare. Abbiamo fatto tante cose al barco del Tornini, mi viene in mente più edizioni di quella che si chiamava Caccia alla Favola, che abbiamo, che poi so, è stata portata anche in Ammanine e in altri posti. E lì il racconto, diciamo un po' l'emergenza che abbiamo dovuto affrontare, è stata una incomprensione, adesso non mi ricordo più quale edizione, per cui davamo per scontato di esserci spiegati sulle nostre necessità, in quanto avremmo voluto occupare gran parte del barco distribuendo un po' dappertutto le bellissime immagini di Alutan, a grandezza anche naturale, eccetera. Arrivando il giorno prima per l'allestimento, eccetera, abbiamo scoperto che l'area a cui anche avevamo pensato non era stata ripulita per quanto riguardava il taglio dell'erba, lo sfalcio, eccetera. E ormai non c'era più possibilità di chiamare il personale perché aveva i suoi orari, eccetera. Roberto, direttore artistico, e io nel bel mezzo del pomeriggio abbiamo affrontato con i nostri decespogliatori la zona e abbiamo conquistato la parte di prato dove avremmo fatto un arrivo con vari ragazzi insieme alle figure, eccetera. Spesso siamo stati in castello, fuori, dentro. Un evento particolare che ci ha impegnato per tutta una settimana è stato quello di eventi verticali perché abbiamo utilizzato una parete del castello, nel senso che loro agivano molto bello, agivano di sera, di notte, appesi, con tutte le sicurezze, eccetera, su questa parete che abbiamo dovuto illuminare. È stato bello anche perché gli artisti veri e propri e ideatori erano due e hanno coinvolto persone volontarie che hanno addestrato nel corso di tutta una settimana per fare anche loro la loro performance. Ci sono dei parametri tecnici di cui tener conto quando si decide di allestire uno spettacolo. È importante sempre che un luogo sia accogliente, silenzioso e una cosa che magari non si vada sia all'aperto, sia al chiuso, spesso è la luce. Quindi al chiuso che sia oscurabile, quindi che permetta di avere il buio. All'aperto sì che ci sia luce ma che anche il giro del sole non dia fastidio sia al pubblico sia a chi rappresenta il proprio spettacolo. All'aperto sì che ci sia luce ma che sia a chi rappresenta il proprio spettacolo.